Il Varazzo ha dimostrato una grande prova di forza, un punteggio pieno di Calarello. Secondo me è il secondo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Nel primo tempo ci hanno messo in grossa difficoltà con giocatori come Lobascio, Draghici, quindi onestamente il pareggio fino al primo tempo era la cosa più giusta. Mentre secondo me nel secondo tempo abbiamo meritato quel qualcosa di più. Sono sincero, il risultato è un po' troppo rotondo per quello che ho visto. Siamo stati bravi, abbiamo avuto anche un po' di fortuna, soprattutto sull'ultimo, a concretizzare. Però secondo me c'era un pochino di superiorità nostra, di palleggio e abbiamo chiuso un po' le loro ripartenze. Direi che non abbiamo rubato nulla oggi. Il Varazzo è che ha mantenuto i giocatori card nella scorsa stagione, ha preso qualcuno dal curriculum importante. Dove può arrivare questa squadra? Dove può arrivare dipende da loro, nel senso che l'obiettivo è uno. Non bisogna per tre partite, anche perché l'anno scorso siamo partiti bene, sette punti, e poi ci siamo serviti la penultima giornata. Questa lezione ci deve servire a tutti quanti. I giocatori che sono arrivati, devo essere sincero, hanno messo oltre la maturità, l'esperienza, il curriculum è vero, però sono entrati nella maniera giusta, perché i giocatori che sono rimasti avevano bisogno forse di qualcosa in più, soprattutto negli allenamenti, soprattutto nella gestione della partita. E posso dire che chi è arrivato, tutti quelli che sono arrivati, stanno facendo bene anche in questa parte.